Occhio al libro Billy di Anselkin edito da nottetempo. Billy è un assassino, lo scopriamo subito fin dalle prime pagine ed è per questo che non vediamo l'ora di finire di leggerlo per capire il perché. Billy è un tipo colto, interessante, una mente raffinata anche grazie allo zio Simus che nonostante le sue origini ha studiato filosofia e l'ha insegnata anche a lui. Billy è un tipo sfortunato, è stato abbandonato piccolo dai genitori ma viene cresciuto dagli zii e dai cugini in questo ambiente familiare semplice ed accogliente. Billy ha ereditato, l'unica cosa che ha ereditato sono un vecchio giradischi e l'amore per la musica. A 19 anni entra a lavorare nell'azienda di famiglia ed è lì che perderà la sua innocenza perché il suo ruolo non è quello di fare i conti o stare dietro il bancone ma l'azienda di famiglia si occupa di omicidi in giro per il mondo perché c'è sempre qualcuno che vuole essere vendicato o che chiede di essere esercito. A fare da sfondo c'è la Las Vegas che è esattamente come noi la immaginiamo, hotel di lusso e di quarta categoria, topi e procioni morti nelle traverse, anziani rumorosi che giocano a bingo e tanti Elvis che ci affiancano per venderci un autografo o una canzone. Ma sappiamo che Billy parla con qualcuno, ma chi? è bello abbandonarsi a questa lettura di questa realtà così forte ma il lettore sa che prima che termini il romanzo deve conoscere le sue motivazioni perché Billy è un assassino ed è la sua resa dei conti.